Ciao a tutti ragazzi, buona Pasqua, buona Domenica, spero che questa giornata possa essere per voi tranquilla, passatela con i vostri cari, con i vostri amici, con chi preferite, cercate di staccare un pochettino anche da quello che è il mondo del calcio e dato che ieri sera abbiamo perso, quale momento migliore per staccare se non questo? Concentriamoci poi sulla prossima partita che si giocherà giovedì, quella sarà una partita indispensabile per la Juventus perché la Coppa Italia è un conto, la Serie A è un conto, l'Europa invece è qualcosa di più affascinante, nonostante non sia la Champions, io sono molto focalizzato su quella partita. Si è perso ieri sera, ce ne faremo una ragione, ci sono secondo me delle cose positive da prendere di questa partita, soprattutto ci sono delle cose negative, ma anche le cose negative portano poi al miglioramento. Vi lascio anche il video post partita che ho pubblicato ieri sera, qualcuno non era d'accordo con me nella frase in cui vado a dire che nella mezz'ora finale la Juventus ha messo sotto la Lazio, secondo me è stato così, secondo me la Lazio ha meritato la partita. Come dicevo ieri sera, non è scandaloso che la Lazio abbia vinto la partita, anzi è stata la squadra che ha dimostrato di più sul campo rispetto alla Juventus che ha fatto un primo tempo bruttissimo, vergognoso, anche ai microfoni poi Landucci ha sottolineato questa cosa qui. Nella mezz'ora finale, dopo i tre cambi, dopo il cambio di modulo, io ho visto una Juve invece differente, che poi non è riuscita a fare gol, e questo è importante, questo poi fa la differenza vera, però ho visto anche una squadra che ha giocato due partite differenti. Quindi, dato che alla fine quello che conta nel calcio sono gli episodi che vanno a formare risultati, vi dico che la Lazio, secondo me, ha meritato la partita, però in realtà la Juventus con un pari non avrebbe rubato niente, per quanto mi riguarda. Bisogna buttare dentro il pallone, non ci sei riusciti, e allora è giusto perdere. Questa, secondo me, è la lettura più risicata, più riassuntiva che si può fare di questa partita. Quattro e mezzo ad Allegri, anche se, ovviamente, come sempre, quando non c'è l'allenatore, Allegri bar Landucci, quindi entrambi, però le indicazioni arrivavano da Allegri, è stata la scelta di formazione, insomma, tutto derivava comunque dalle scelte dell'allenatore, più ovviamente un piano che si saranno preparati, come è già successo altre volte in stagione. Quattro e mezzo, perché ragazzi, secondo me, la partita la si perde proprio qui, si perde nel prepararla, perché non si è mai andati a sfogare sugli esterni, dove la Lazio di Sarri, dove le squadre di Sarri concedono terribilmente spazio, non siamo mai andati a servire i costi, ci sono state due occasioni nel primo tempo, in cui una volta mi pare Rabiot, una volta mi pare Di Maria, non sono nemmeno mai, non è mai venuto in mente di provare ad allargare quel pallone per andare a fare male sull'esterno sinistro, non siamo mai andati a fare i cambi gioco, che sono indispensabili, proprio perché la Lazio stringe molto e quindi lascia le corsie libere con i cambi gioco, avresti distrutto la Lazio, ma soprattutto l'atteggiamento. Perché io capisco che tu voglia preparare la partita sul, ok, primo tempo barra prima ora, la tengo lì e poi vediamo cosa succede, perché poi nel finale possiamo tirare fuori qualcosa dato che loro mollano, però ci deve essere una linea sottile tra le due cose, a me va bene essere prudenti, mi va bene pensare di contenere magari un po' di energie, ma questo non significa non giocare a calcio per 40 minuti, 45 minuti, 60 minuti. Queste robe, la Juve deve comunque provare a costruire delle azioni, provare a far male all'avversario senza essere sempre schiacciata all'interno della propria metà campo, della propria tre quarti, della propria area di rigore a tratti, perché il primo tempo è stato completamente dominato dalla Lazio, completamente. E queste cose qua nascono dalla voglia di preparare la partita in quel modo lì. Io credo che nel 2023 sia anche necessario un attimino distaccarsi da queste cose qua, a maggior ragione contro una squadra che ti ha dimostrato nella mezz'ora finale che quando ha la volontà di poter fare la partita, di poter attaccare con gli esterni, poter puntare, creare superiorità numerica, cambiare il gioco da una parte all'altra, sia molto più pericolosa, molto più propositiva, molto più divertente, ma questo dipende poi dal fatto che la Juventus riesce a creare occasioni, perché non è mai per me il discorso del giocare bene, per me giocare bene, giocare male è una roba che non esiste, soggettiva, non vuol dire niente la frase così, però se non crei pericoli non sei nemmeno in grado di attaccare l'avversario, non sei nemmeno efficace, ci deve essere una via di mezzo tra le due cose. Quindi la partita è stata preparata molto, 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 molto male, molto, molto, molto male, come l'andata era stata preparata molto, molto, molto bene, purtroppo oggi è stata preparata molto, molto, molto male. E nasce da qui la sconfitta, nasce già dal modo in cui decidi di approcciarti al campo. Fotto sei a Scesni, penso che possa poco su due gol, magari su quello di Milinkovic-Savic qualcosina di più, perché comunque la palla gli arriva lì, Zaccagni è molto bravo a tirare a giro da quella posizione, secondo me difficilmente Scesni avrebbe potuto prenderla. Sul primo gol mi viene da dire, magari aveva visto Alexandro in vantaggio, quindi pensava che potesse farcela o comunque venisse fischiato il fallo, non è stato così, e quindi poi è arrivato anche il gol. Io direi che non è un discorso di portiere questa sconfitta, è proprio un discorso d'atteggiamento di squadra e se vogliamo pure d'episodi. Gli episodi secondo me vengono fuori dopo dal fatto che la partita era rimasta comunque in equilibrio, cioè questa partita l'hai persa per un discorso d'atteggiamento, non è stato tanto altro. Cinque e mezzo da Gatti, leggero passo indietro rispetto alle prestazioni degli ultimi giorni, delle ultime giornate, ci sta, se la squadra inizia a risentirne ne risente pure Gatti. Poi è ovvio ragazzi che quando i centrali di difesa sono sottoposti a questa pressione costante da parte degli attaccanti avversari non è per niente facile. Gatti l'abbiamo visto che quando ha la possibilità invece di ripartire anche a campo aperto e prendersi quella porzione di campo che spesso lasciamo vuota, una zona d'ombra che invece Gatti va a riempire, un po' come se fosse un centrale dell'Atalanta di Gasperini, ha possibilità di far male in spinta. Giocatore, un difensore che comunque adora offendere Gatti, se invece è costretto a difendere sempre dentro la propria metà campo, sempre dentro la propria area, probabilmente fa un po' più fatica. Così come Bremer, secondo me Bremer è il migliore in campo, insieme ad un altro giocatore che vedremo dopo, ha fatto un intervento miracoloso su Immobile nel primo tempo, in occasione del golf ha un grandissimo colpo di testa, tiene sulla baracca Bremer, poi ragazzi, ripeto, vale il discorso che ho fatto per Gatti, se ce li hai sempre lì diventa complicato, come diventa complicato per Alexandro, che poverino, ha fatto una fatica da matti, ci sono state anche due o tre robe belle di Alexandro, arrivare prima su quel pallone nel primo tempo, che mantiene viva l'azione, quella percussione, che poi è larga su Rabiot. Però, se penso alla partita dei due braccetti difensivi, sia Gatti che Alexandro hanno fatto molta fatica a contenere le iniziative di Zaccagni e di Felipe Anderson. Perché? Perché questi giocatori arrivavano sempre a attaccare dentro l'area di rigore. Grazie al movimento ottimo della palla e dell'azio di Sarri, riuscivano sempre a trovarsi in buona posizione per far male. E questo cosa significa? Che poi i tuoi difensori centrali della difesa 3, i due esterni della difesa 3, fanno fatica perché sono sempre sollecitati. È normale. 8-4,5 a quadrado, che veramente Zaccagni non l'ha mai visto. Noi abbiamo giocato con un 3-5-2 asimmetrico per tutta la partita, che poi si è trasformato in un 4-3-3 puro. Perché asimmetrico? Perché dalla sinistra avevi Isai e Zaccagni da contenere e quindi Quadrado stava un po' più bloccato. Cercava di dare una mano a Gatti da quella parte lì, proprio perché loro venivano giù come due treni con questi esterni qua. E quindi Quadrado un po' più lì, Kostic un po' più in alto e sembrava quasi un 4-3-3 già nel primo tempo con Kostic di Maria Evlaovic. Non era proprio così, era un 3-5-2 asimmetrico proprio per cercare di dare un occhio di riguardo a quella corsia dell'Alazzo che poteva provocare problemi. Questa cosa ci ha complicato la vita. Questa cosa ci ha distrutto completamente perché Zaccagni ha fatto letteralmente quello che voleva. Non siamo mai andati a raddoppiarlo e quindi ti trovavi sempre in mezzo a questi due giocatori in maniera inefficace. Quadrado non ha mai spinto ieri. Quadrado è sempre rimasto bloccato per dare una mano. La Juventus a destra non c'è mai andata, a sinistra non c'è mai andata, la Juventus non è mai andata sull'esterno che era l'unico modulo che aveva la Juventus per far male all'Alazzo di Sarri. E l'abbiamo visto nell'ultima mezz'ora quando abbiamo cambiato modulo, quando abbiamo messo Chiesa di Maria e quando abbiamo iniziato effettivamente a giocare sugli esterni. Questo è proprio un discorso tattico. È inutile girarci intorno. 5.5 a Fagioli che fa un buon recupero nel primo tempo. sbaglia un gol nel secondo dopo una buona azione corale della Juventus. Anche lui disperato quando esce dice l'ho presa male. All'interno della partita comunque difficoltà perché il centrocampo della Lazio, ragazzi, gira. Basti pensare a Milinkovic-Savic che fa il gol del 1-0 e a Luis Alberto che fa quella magia sul gol del 2-0. Non è facile giocare contro i centrocampisti della Lazio. Stiamo parlando di alcuni tra i migliori centrocampisti in Italia. Quindi è logico che anche Fagioli abbia fatto fatica all'interno di una partita che la Juve comunque ha preparato male. Il problema madre rimane quello. 4.5 a Locatelli che secondo me non è un caso. Non è un caso che non giri Locatelli, non gira la Juventus. La peggior partita di Locatelli da un po' di tempo a questa parte è forse la peggior partita della Juventus da un po' di tempo a questa parte. Locatelli che fa anche un brutto intervento nel primo tempo mi pare su Milinkovic-Savic. Sarri poi alla fine della partita dirà secondo me ha fatto un'analisi giustissima sugli episodi arbitrali dicendo che Quadrado poteva beccare il rosso in più di un'occasione o comunque un giallo anche in precedenza. La spinta su Alexandro si poteva fischiare perché probabilmente era fallosa e Locatelli fa un intervento che è un po' più da giallo. Sono completamente d'accordo con l'analisi di Sarri. Secondo me l'intervento di Locatelli è brutto, inutile e Locatelli era completamente fuori giri ieri. Quindi si becca un 4,5 purtroppo all'interno di una stagione nel quale, ve l'ho detto, mi è sempre piaciuto tantissimo ieri sera non è andato. 6,5 da Rabiot che arriva a quota 10 gol stagionali è tanta roba, 10 gol stagionali è veramente tanta roba lesto, cattivo, veloce ad attaccare quel pallone che gira all'interno dell'area di rigore giusto così. Peccato che non sia stato sufficiente perché il primo gol di Rabiot fuori casa poteva essere anche una vittoria della Juventus la Juventus continua a fare una fatica boia in trasferta, non c'entra a fare è la partita di ieri siccome lo conferma. 4,5 a Kostic Casper invece che Kostic Fantasma formaggino perché dicevo prima un paio di occasioni in cui poteva essere servito sì ma ieri l'ho visto pasticciare col pallone quelle volte che si andava effettivamente sull'esterno Kostic ha pasticciato non credo che sia un caso che sia stato sostituito per fare entrare Federico Chiesa al suo posto proprio perché già nella partita con l'Inter abbiamo visto Kostic diverso ieri sera secondo me siamo arrivati a un punto in cui è davvero cotto e adesso spero che possa rilassarsi un attimino in attesa di giovedì perché giovedì è veramente importante e ovviamente con questo atteggiamento giovedì ne prendiamo 10 questo atteggiamento qui quindi dai ragazzi su che non ci sono più margini d'errore non ci sono più possibilità di errore voto 6 di Maria io vi dico la verità sarò onesto con voi per me di Maria era da sostituire dopo un'ora di gioco avrei tolto di Maria perché era in versione Ave Maria non so se per una tematica pasquale ma veramente mi ha fatto dire tante Ave Maria ieri completamente nascosto quelle volte che entrava dentro il gioco impreciso e poi lei ha iniziato a giocare un calcio più propositivo un calcio differente siamo andati più sull'esterno siamo andati più a fare i cambi di gioco lui la metteva giù in maniera meravigliosa ha iniziato a girare il motore di Angel Di Maria come se fosse un diesel perché c'è avuto del tempo ma revitalizzato e galvanizzato dai cambi che sono stati fatti quindi se devo fare la media tra le due partite di Di Maria viene fuori un 6 che è una sufficienza ma malissimo nella prima ora è molto bene invece nella mezz'ora poi finale questo dovrebbe darci una risposta cioè se ci siamo fatti tante domande quest'anno questa partita di Di Maria dalle due facce come deve darci una risposta per farci capire cos'è sta squadra qui e come dovrebbe essere schierata sta squadra qui voglio fare un video a parte magari lo faremo uscire domani sull'argomento perché secondo me c'ha da discutere di questa cosa qui 4 e mezza Vlaovic mi dispiace tanto mi dispiace veramente tanto perché comunque Vlaovic gioca lontanissimo anche dalla porta e questo è un dato di fatto però Vlaovic in questo momento non sta facendo bene al di là di quelli che sono i compiti dell'attaccante o gli errori che può fare un attaccante in area non sta facendo bene non credo che sia bene nemmeno fisicamente al di là della caviglia non lo vedo pimpante non lo vedo sereno bisogna salvarlo Vlaovic ragazzi bisogna salvarlo Vlaovic perché in questo momento questo rischia di essere entrato in un buco nero dal quale poi è difficile uscirne bisogna veramente cambiare il modo di trattare Vlaovic magari con anche un paio di panchine un paio di panchine potrebbero fargli bene in questo momento perché lo svuotano un pochettino da quelle che sono le responsabilità lo svuotano un pochettino da questi problemi lo ricaricano dal punto di vista fisico e lo mettono nella condizione di dire cazzo devo pedalare di più un paio di panchine secondo me a Vlaovic in questo momento gli fan bene non per punirlo per aiutarlo per aiutarlo voto 6 a Chiesa che secondo me è entrato molto bene Federico Chiesa ieri è entrato che ne aveva Federico Chiesa ieri è entrato e Landucci dice una cosa importantissima ai microfoni della zona ho messo Chiesa ho cambiato modulo perché Chiesa sull'esterno quelle cose le sa fare è in grado di puntare l'uomo e creare superiorità numerica quanto cazzo penalizziamo Federico Chiesa quando lo facciamo giocare e punta quanto cazzo lo penalizziamo e questo sarà uno dei punti focali del video che voglio far uscire domani discorsivo proprio su questo discorso proprio sul modulo sui giocatori sulle caratteristiche su quello che potrebbe essere la Juve che non è stata cazzarola voto 6 a Paredes a me è piaciuto Paredes quando è entrato io ho letto un sacco di pagelle tanti davano a priori brutto voto a Paredes secondo me ieri Paredes decisamente meglio di Locatelli un po' lentino probabilmente nella manovra ma secondo me è stato un buon ingresso ingresso da 6 non sono tante le sufficienze questa squadra e la gran parte dei sufficienti sono quelli che sono entrati dalla panchina proprio perché primo tempo prima ora di gioco niente 5 e mezzo a Milik che secondo me è più coerente come tipo di giocatore rispetto a Vlaovic per quello che è il modo di giocare di questa Juventus poi ieri si è un po' perso però secondo me la differenza in positivo si è vista e non significa che Milik abbia fatto la partita dell'anno perché gli ho dato 5 e mezzo ma Vlaovic francamente come Kostic fantasma formaggino ieri cioè ieri proprio male 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 Milik leggermente meglio non fenomenale ma leggermente meglio voto 6 a Danilo che secondo me è subentrato molto bene ha giocato pochi minuti a me quel cambio con Quadrado era fare addirittura prima perché Quadrado si vedeva che era cotto che ha rischiato mille volte il secondo giallo se non il primo giallo prima Quadrado male e invece Danilo che torna a fare il quarto nella difesa a quattro terzino di spinta tra l'altro cosa che solitamente non vediamo fare a Danilo mi è piaciuto anche questa voglia di guidare ai compagni e spiegargli come queste sono cose che fanno bene voto 6 a Danilo che non ce la fa riposare non può proprio farlo e voto 5 a Miretti ora tanti non saranno d'accordo con questa cosa perché verrete a dirmi ma come ma Miretti ha giocato 5 minuti più 5 di recupero si si è vero ragazzi ha giocato 5 minuti più 5 di recupero ma quanto è entrato male Miretti io capisco perché qualcuno mi ha detto ma non capisco il cambio Fagioli e Miretti Fagioli era stanco aveva appena sbagliato quel gol hai un ultimo cambio e provi a buttare forze fresche ci può stare però Miretti è entrato veramente male forse perché non pensava nemmeno di dover entrare pensava che ormai la partita fosse finita non ci sarebbe stato nessun altro cambio non ne ho idea non lo so però due o tre palle gestite in maniera terrificante un giallo che si poteva tranquillamente evitare e poi nel finale la Juve deve andare avanti Miretti predispone invece l'azione per andare all'indietro Miretti secondo me è entrato veramente male ieri e quindi non so quante volte ho già detto tre o quattro non ne ho idea ma non è perché voglia male a Miretti anzi sapete bene quanto mi piaccia a questo ragazzo però quando entri in queste partite qui con la maglia della Juve prima squadra c'è stata anche una progressione lui è molto bravo in progressione attaccare gli spazi un po' troppo morbido si è fatto recuperare ha perso palla io voglio più mordente voglio più grinta in questi ingressi qua perché sono convinto che Miretti le caratteristiche le capacità ce le abbia poi sta volando Miretti perché con 2003 e io non so quanti giocatori a questa età tra i 19 e i 20 anni abbiamo già fatto tutte queste presenze nella Juventus prima squadra Miretti sta volando è un predestinato e potrà fare solo che bene però queste occasioni qua che ha se deve giocare meglio poi non significa che doveva risolverci la partita o cose del genere ma lo voglio vedere concentrato quando entra perché in quel percorso che l'ha portato a essere panchinato post Benfica l'ho visto terribilmente debole a livello mentale e io invece voglio che venga forgiato voglio che migliori mi è piaciuto tantissimo ieri Danilo che gli spiegava quale tipo di giocate invece avrebbe dovuto fare queste queste sono le cose che mi piace vedere dai cazzo Fabio sono con te